Ennesimo danneggiamento ai danni della cooperativa agricola Rosario Livatino Libera Terra. A Naro è stato devastato da un incendio il terreno che era stato confiscato alla mafia e fidato alla cooperativa nel 2015. È stato il legale rappresentante della cooperativa Rosario Livatino Libera Terra a formalizzare la denuncia alla stazione dei carabinieri di Naro. Le fiamme hanno completamente distrutto il vigneto, oltre 6.000 piante e il danno provocato è stato quantificato in circa 20.000 euro. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio ha raggiunto il terreno gestito dalla cooperativa dopo essersi propagato da un fondo confinante. L'ennesimo episodio, l'ultimo, si era verificato nello scorso mese di luglio in un altro terreno coltivato a grano. Le indagini sono svolte dai carabinieri della stazione di Naro e dai militari della compagnia di Licata, coordinati dalla procura della Repubblica di Agrigento. La sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara, ritiene che il ciclico attacco intimidatorio e distruttivo sui beni confiscati alla mafia e restituiti alla società evidenzia la necessità di una diversa vicinanza alle cooperative che, con grandi sacrifici, gestiscono questi terreni. Bisogna dare un segnale forte, ha aggiunto Maria Grazia Brandara, per significare che attaccare i beni tolti alla criminalità organizzata significa attaccare l'intera comunità.